Benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner che dedichiamo come ormai ogni mese alla rassegna stampa di Le Fonti Legal. Si tratta del primo numero dell'anno, un numero doppio, che ha incluso i mesi di gennaio e febbraio, che come possiamo vedere fin dalla copertina è un numero e non poteva essere altrimenti speciale. In campo per la ripartenza sono gli avvocati specializzati nei settori legali chiave del 2021 che abbiamo coinvolto in questo speciale Legal che, come detto, è il primo dell'anno. Ma entriamo nel dettaglio andando al prossimo cartello grafico. Come possiamo leggere per raccontare tutti i cambiamenti del 2020 in materia legale, soprattutto per immaginare le prossime e molteplici sfide che ci attendono quest'anno, abbiamo chiamato in causa gli avvocati specializzati nei singoli settori che hanno subito e subiranno le maggiori trasformazioni per via dell'emergenza sanitaria. Quindi si va chiaramente dal diritto del lavoro al settore finance, quindi crediti deteriorati, al project finance fino alla fiscalità locale e al diritto penale in tutte le sue molteplici sfaccettature. Quindi dal processo penale telematico, che è una delle prossime sfide per questo comparto, fino al diritto penale d'impresa. Ma all'interno di questo numero troverete analisi e best practice. Ma andiamo oltre, perché è importante insomma anche la nostra classica rubrica mondo in house, che è dedicata appunto al mondo dei general counsel e abbiamo una, come detto, interessante intervista ad Andrea Navarra, che è il gruppo general counsel di ERG, con il quale abbiamo parlato delle prossime sfide per il settore energy e soprattutto per quello delle rinnovabili, un settore quello delle rinnovabili che a fronte della crisi in atto continua comunque a crescere, come possiamo vedere e leggere dalle importanti dichiarazioni che ha rilasciato Navarra. Il nostro piano 2018-2020 da 1,6 miliardi di euro dedicato alla crescita nelle rinnovabili, afferma Navarra, è confermato, così come gli 850 megawatt di potenza incrementale di energia verde prevista a fine periodo. Ma all'interno di questa intervista troverete anche importanti e altri spunti appunto che ha offerto il gruppo general counsel di ERG. Ma, insomma, è una linea quella che ha intrapreso ormai da tempo le fonti legal e le fonti in generale, quella di mettere a confronto il mondo dei professionisti dell'area legale con il cosiddetto mondo in house, quindi sia general counsel che HR manager, un percorso, come detto, che diventa ancora più decisivo oggi che ci troviamo in questa delicata fase di emergenza sanitaria. Come possiamo vedere nella slide successiva, in questa delicata fase cresce proprio la volontà e l'aspetto decisivo di fare network e la sfida diventa oggi, da parte del mondo editoriale, saper offrire nuovi e rinnovati strumenti di network, perché appunto fare rete è diventato ancora più imprescindibile oggi per via del freno alla socialità, che sembra appunto una banalità, ma un freno che al momento purtroppo sembra ben lontano ancora dall'essere allentato, anche se ovviamente la nostra speranza è che questa emergenza possa finire il prima possibile. Ma intanto su questa falsariga, come possiamo vedere nel prossimo cartellografico, nasce un nuovo format sulle fonti legal, si tratta di speciali tematici di settore per analizzare e spiegare le principali sfide e criticità normative. A confronto quindi avvocati, professionisti, il mondo in house di cui abbiamo parlato prima, per creare, ed è una parola che continueremo a ripetere, dei veri e propri network di approfondimento, ma per maggiori informazioni e candidature spontanee potete scrivere al nostro indirizzo mail dedicato che è press-lefonti.it. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, per essere stati con noi e vi do appuntamento, sempre su Le Fonti TV, alla prossima puntata di Legal Corner.